Un saluto a tutti e un buon ascolto di questa mia canzone. Sono Cosimo Mascolo, sono un compositore e arrangiatore di brani musicali. La musica è una mia passione, un hobby non è la mia professione. Oltre alla composizione, ho un bagaglio di 55 anni di esperienza live, con grande e piano barra. Oltre alla composizione, ho un bagaglio di brani musicali. Oltre a tutti e un buon ascolto di questa mia canzone. Oltre alla composizione, ho un buon ascolto di questa mia canzone.